Divertente e coinvolgente lo spettacolo di Max Giusti, Bollicine, è andato in scena sabato sera all'Ariston, uno show all'insegna della comicità e del buon umore, in cui Giusti rivela le sue verità più scomode e racconta al pubblico quello che nella vita di tutti i giorni non direbbe mai nemmeno al suo migliore amico, confessioni a cuore aperto in un clima di festa, con le immancabili Bollicine. Diciamo a me non piacciono mai gli spettacoli in cui c'è il comico e ti fa gli spiegoni che vuole insegnarti a campare, io ho cercato di farvi ridere per un paio d'ore, cercando di farlo in maniera molto diretta ma non banale, cercando di vedere che in realtà siamo una società in continua evoluzione e dobbiamo essere noi, soprattutto noi che siamo qua sopra, quelli più bravi anche ad evolversi. Quando sento alcuni colleghi che dicono che non si può più far ridere da quando c'è il politica early correct, io gli ho voluto smentire anche questo spettacolo, si può divertire, ridere senza offendere nessuno. Il punto di forza l'ho ancora a scoprire, sicuramente per me è l'entusiasmo che ho nel portare e raccontare cose nuove per me. La grande difficoltà è stata quella di non ripetersi, quindi cercare degli argomenti nuovi, l'altra grande difficoltà è rendere comprensibile a tutte le latitudini, il tuo racconto, la tua idea e portarle in giro dappertutto. E' un po' di lavoro anche imparare 27 pagine, belle fitte fitte, tutte nuove a memoria, quando sei solo sul palco. E' un po' faticoso, ma è il minimo, perché poi, se pensi all'applauso finale di stasera, tutto ti ripaga. Beh, amici trapanesi, devo dire che Trabani è più bella, è come se si fosse data una bella lucidata, come se avesse lucidato la sua argenteria, è stato veramente un piacere portare a battesimo questa nuova avventura qua. Grazie per avermi ospitato e spero di vedervi presto, non far passare altri 16 anni, 17 anni più o meno.